Questo posto che si chiama Lanzhou, veramente un posto inquinatissimo, nell'aria si sente proprio un odore di gasolio, di carbone, non di gasolio, perché qui usano il carbone. Lanzhou è la città più inquinata della Cina, però noi andiamo verso il deserto, ecco perché dobbiamo passarvi qui. Allora, questo qui dovrebbe essere il famoso fiume, no lo sto registrando, fiume giallo. Il colore giallo è decisamente plausibile, perché è questo colore di fanghiglia, però credo che sia anche una fanghiglia buona, perché si porta via tante cose belle come fa il Nilo, però penso che si porti via tanta merda. Tutto questo fiume giallo, io mi muovo un po', cerco di farlo vedere nella sua grandiosità, perché attraversa questa città che è tutta longitudinale, da nord a sud, è una striscia la città, divisa a metà da questo fiume, grandioso fiume, tutto ciò che sta di qua e di là è tutta industria, industria, industria la cui materia prima per farle andare il carbone, quindi abbiate pietà di me, però è interessante, perché non è che si vedono spesso queste cose, è interessantissimo, chissà queste ruote di legno grandi, il significato, non saprei, guarda qua, questi vanno su questo fiume, vanno... Grazie a tutti!